Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati. Vicenza stava andando al lavoro la 46enne vittima dello schianto su un albero. Samara era una guardia giurata, Samara Paladino sposata, residente nel capoluogo, lavorava nel settore della sicurezza privata, si stava recando in azienda per il turno notturno. Inspiegabili al momento le cause dell'incidente avvenuto in un tratto rettilineo della strada che collega Casale al quartiere della Stanga. La donna, 47 anni, tra un mese è morta sul colpo per i traumi alla testa. Perreff perde il controllo, sbatte su un'altra auto in sosta, a bordo strada ha ferita una donna, la conducente della vettura rovesciata si insulte il tettuccio, un'automobilista vicentina è stata trasportata al pronto soccorso per verificare l'entità dei traumi riportati. Lo scontro con una macchina Opel parcheggiata al lato del fondo stradale ha determinato l'impennata del mezzo con l'intervento dei pompieri in supporto. Piovene rocchette, sicurezza, controlli straordinari, sette persone allontanate dal territorio comunale. L'operazione ha visto impegnati 25 uomini che hanno controllato 81 veicoli, 132 persone, due sale giochi. Entrambe le attività sono state sanzionate per la violazione dell'orario di chiusura. Quattro persone hanno ricevuto il foglio di via obbligatorio dal territorio, mentre tre stranieri hanno ricevuto il foglio di via dall'Italia. Previsioni in medio. Ponte di Pasqua con correnti più fresche e variabilità. Il caldo degli ultimi giorni sta terminando. Correnti più fresche dall'est Europa giungeranno nel ponte pasquale con un lento ma graduale calo delle temperature e poche precipitazioni previste. Domenica di Pasqua, prevalenza di tempo soleggiato. Prodotti dolciari, Vicenza, Pasqua, i prodotti della tradizione in aumento del 3,7%. Gli ultimi due anni hanno pesato come un macigno sulle attività dolciarie vicentine. Il lockdown, con la chiusura obbligatoria, successivamente le restrizioni, hanno causato un netto calo di vendite a flusso di clienti. Pasqua 2022 è la prima festività post-pandemia che si trova a fare i conti con la guerra in Ucraina. Garantire sulle tavole i prodotti dolciari tradizionali, 482 imprese artigiane vicentine della pasticceria e settore dolciario, che vedono impegnati 2.300 addetti. In provincia sono 3.268. Veneto, appalti pubblici, piccole e medie imprese, escluse dall'83% del mercato, verso una riforma del codice appalti, che estenda l'accesso ai contratti pubblici alle micro, piccole e medie imprese attraverso una riduzione degli oneri, una trasparenza delle regole. È l'invito che CNA ha rivolto oggi alla Commissione Ambiente della Camera sulla Delega in materia di contratti pubblici, sottolineando l'esigenza di riscrivere il codice in uso dal 2016. La pagina dell'Eco Vicentino, la cronaca, tre morti sul lavoro in poche ore in Sardegna, Trento e Cesena. Salvatore Piras aveva solo 23 anni, oggi mentre svolgeva il suo lavoro è morto e successo a Sorso, in provincia di Sassari, in un cantiere edile della zona artigianale. Capo CIA avverte Putin può usare armi nucleari. Le ultime battute d'arresto della Russia durante la sua invasione dell'Ucraina potrebbero spingere il presidente russo ad usare armi nucleari o tattiche a bassa resa, lo afferma il direttore della CIA, William Burns. Joe Biden è pronto ad andare a Kiev. Il presidente americano è pronto ad andare in Ucraina, così l'inquilino della Casa Bianca ha risposto a una domanda dei giornalisti. Lo sport, Coppe Europee in semifinale solo la Roma, trascinata da Zaniolo, Atalanta eliminata dall'Ipsia. Nelle Coppe Europee prosegue il disastro del calcio italiano. Eliminata all'Atalanta in Europa League, vince e vola le semifinali di Conference League solo la Roma. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.